Per chi mi ha visto fare spaccate su tappetini con lucine rosse ed era curioso del che cosa stessi facendo e del perché lo stessi facendo, la puntata di oggi è dedicata al mondo degli infrarossi, in ottica di benessere, in ottica di salute, di medicina, di prevenzione, non solo in ottica fisica, anche se l'ospite di oggi strizzerà un po' l'occhio a quel lato della scienza. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio, una puntata dal carattere ingegneristico, come vedrete poi dal nostro ospite che sto per introdurre. Come al solito devo portare i saluti di Vincenzo che in questo periodo è stato un po' acciaccato dal punto di vista influenzale e introduco ufficialmente che l'argomento di oggi saranno la fotobiomodulazione, che è una parolaccia che il nostro ospite adesso ci spiegherà meglio, ma ossia quando avete visto magari il mio Instagram con lampade, controlampade, cose di questo genere, ci riferiamo a quello, la terapia con la luce, che sarà una sfonda secondo me molto futuristica di quello che avremo a disposizione e che abbiamo già a disposizione per quello che forse è lo scopo più importante, ossia la prevenzione. Ma bando alle ciance, introduco subito l'ospite di oggi che è l'ingegnere Alessio Angeleri. Ciao Alessio! Ciao Manuel, grazie mille per l'invito. Allora, la nostra tradizione è che l'ospite si presenti, quindi se vuoi dici qualcosa di te. Sì, buongiorno a tutti. Io sono laureato in ingegneria elettronica e telecomunicazioni, però sono sempre stato appassionato di salute, benessere, performance, psicofisica a 360 gradi. In questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, sono riuscito a creare un connubio tra il mio percorso di studi e quella che è la mia passione per la salute e per la performance. Quindi sono sempre stato appassionato anche di fisica, ho iniziato ad approfondire i concetti di biofisica, cioè la fisica della vita, e quindi diciamo che il mio interesse, il mio percorso di studi, in questo momento mi sono stati utili anche per sviluppare poi nuove tecnologie che volte appunto non solo ad aumentare benessere e performance, ma anche a trattare vari tipi di problematiche. Ok. Dai, svegliamo l'Arcano. Fai parte anche di un'azienda che si occupa della produzione di lampade che provvedono alla fotobiomodulazione, giusto? Esattamente. Ho iniziato anni fa a collaborare con l'ingegnere Angelo Rossiello e diciamo che questo incontro è stato un colpo di fulmine, non diciamo nel senso... Totale, totale, dai, totale. Esatto. Non in qualsiasi... Allora, diciamo che condividevamo già interessi comuni per la performance, per l'alimentazione, gli stili di vita ancestrali, poi abbiamo iniziato a sviluppare tutta la tematica luce, i campi elettromagnetici in generale, abbiamo iniziato questa collaborazione amicizia fraterna che ha collimato poi con lo sviluppo di prodotti e nuove tecnologie per la fototerapia, la fotobiomodulazione e biohacking in generale. Da poco è stata creata l'azienda Helioslamp, di cui Angelo è il socio di maggioranza e diciamo è stato poi introdotto, si è aggiunto un altro socio, il dottor Andrea Santi, e è iniziata questa collaborazione tutcurt. Beh, per me è bello dirlo in maniera da dire che tra l'altro non è una puntata sponsorizzata, poi eventualmente per la mazzetta ci pensiamo in privato. Poi ci vediamo, esatto. Ci vediamo in privato. No, a parte gli scherzi, ho chiamato Alessio perché con la loro azienda mi hanno visto nominarla tra l'altro su Instagram, diverse persone, perché l'ho scoperta da relativamente poco, ho trovato dei prodotti veramente ben realizzati, ben pensati e appunto non abbiamo nessun tipo di affiliazione, ma è semplicemente un argomento a cui io, tra l'altro ci siamo scoperti perché io ero infissa proprio per questo genere di argomenti, ma non sapevo che esistesse una realtà italiana, poi io non sono particolarmente addentro a questo, alle varie aziende, non sapevo se ne fossero di italiane così qualitative, quindi poi Alessio insieme ad Angelo comunque stanno molto dietro allo sviluppo tecnico, perciò mi è sembrato giusto chiamarti perché puoi darci un sacco di informazioni utili al riguardo. Facciamo già un altro altro, te lo spoilerò, facciamo già una puntata sugli infrared come introduzione che tu non ti devi ascoltare perché ho fatto io la parte dell'esperto e ho detto probabilmente cose che a livello ingegneristico tu non devi assolutamente sentire. Non ci mancherà. Quindi rifacciamo un approfondimento oggi. E a riguardo ti chiedo, prima domanda a bruciapelo, perché quando si leggono, io adesso faccio la persona che vuole interessarsi a questo mondo, cerco infrared o fotobiomodulazione o lampade per fotobiomodulazione e la prima cosa che potrò notare è che moltissimi prodotti hanno tante specifiche, molto specifiche per chi non è addentro a questo mondo, tipo quel famoso numeretto che è la lunghezza d'onda, quindi se è il 60, se è il 35, se è il 30, se è il 40, ci riesci a spiegare un pochino per persone, per non ingegneri, il concetto di infrared, cioè o meglio di NIR e IR, o direi tu cosa, e perché sono importanti quei numeri? Assolutamente. Diciamo che esistono vari parametri per giudicare una tecnologia e in primis appunto sono le lunghezze d'onda, ok? Ossia il tipo di frequenza luminosa che viene utilizzata per la fotobiomodulazione. La parola stessa fotobiomodulazione significa andare a modulare i parametri fisiologici con l'ausilio della luce. Ma quale luce si può utilizzare? Per la fotobiomodulazione quelle più in voga, quelle più in auge, sono la luce rossa e la luce del vicino infrarosso. In passato si utilizzavano molto o i bulbi incandescenti, quindi che hanno uno spettro diciamo abbastanza ampio e trasportano anche tanto calore perché è anche lontano infrarosso, ok? Tanto, diciamo, per semplificare, esempio la sauna infrarossi, la famosa sauna infrarossi. L'ho conosciuto, sì. Esatto, che ha effetti benefici, la utilizza e utilizziamo questo tipo di lunghezze d'onda ad ampio spettro anche sul nostro prodotto di punta, la Mercuris. Con lo sviluppo, quindi la tecnologia era o questa, con i bulbi incandescenti, oppure con il laser. Infatti, la fotobiomodulazione è conosciuta da decenni come low-level laser therapy, però era pannaggio dei centri medici perché chiaramente la tecnologia non solo era costosa ma anche poi chiaramente delicata e difficile da usare e quindi doveva essere utilizzata da un professionista del settore. Con lo sviluppo della tecnologia LED si è riusciti a portare dentro le case delle persone la fotobiomodulazione però chiaramente il LED è a banda stretta ossia ho diciamo delle frequenze luminose ben specifiche esempio luce rossa o 630 660 670 nanometri vicino a infrarosso o vari tipi di lunghezze d'onda che possono essere 810 830 850 980 1064 ultimamente quindi però perché questi numerini perché rappresentano la banda di assorbimento delle nostre biomolecole il nostro corpo diciamo è fatto da antennine che vanno a ricevere la luce questa luce fornisce sia energia al nostro corpo ma anche informazione quindi a seconda del tipo di luce che andiamo a dare andremo a generare un petto petto metabolici e biofisici e biochimici diversi quindi andremo in sostanza a creare a stimolare il corpo a fare una cosa piuttosto che un'altra quelle più adesso ultimamente si stanno aggiungendo anche altre lunghezze d'onda corrispondenti ad altri colori di luce soprattutto nel visibile esempio la luce blu la luce verde la luce gialla queste diciamo hanno altri effetti però la luce visibile quella che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi rimane un pochino più in superficie quindi va molto bene per fare una stimolazione a livello cutaneo ok detto questo la pelle essendo l'organo più esteso del nostro corpo tutto quello che va ad avere un effetto su di essa ha anche un effetto sistemico sull'organismo basti a pensare anche la luce dell'ultravioletto che tramite l'attivazione del colesterolo stoccato nella nostra pelle va a creare tutta una serie di molecole ormoni vitamina D che hanno un effetto sistemico in tutto il corpo le lunghezze d'onda però più in voga quello che succede poi col sole no? scusami se ti interrompo esattamente perché facciamo anche dei collegamenti per chi magari non lega subito il concetto di UV ma è anche quello che succede col sole assolutamente diciamo che noi siamo allora il concetto è questo se uno abitasse alle fisi mangiasse bene fa esercizio fisico sta tutto il giorno al sole non avrebbe bisogno di queste tecnologie queste tecnologie sono create per cosa? per andare a mimare un po' sono stati estrapolati quelle che noi riteniamo siano le lunghezze d'onda più biologicamente attive del sole le abbiamo portate in un dispositivo che uno anche che abita a Milano nella nebbia di novembre riesce ad andare a utilizzare e a stimolare come se stesse diciamo al sole anzi addirittura in alcuni casi sono più efficaci ma perché noi andiamo a concentrare un certo tipo di lunghezze d'onda per avere un certo risultato esempio ho un infortunio oppure un epicondilite un'infiammazione posso stare al sole una settimana ma essendo diciamo lo spettro bilanciato avrò risultati relativi se io concentro lo spettro antinfiammatorio in un dispositivo vado a dare un segnale molto più forte quindi un segnale di guarigione molto più molto più rapido quindi riassumendoci a luce rossa noi abbiamo abbiamo scelto principalmente la 670 nanometri però per i led periferici anche 630 stiamo utilizzando e per la luce del vicino infrarosso 830 850 sono quelle più in voga abbiamo introdotto anche l'810 e probabilmente a breve ne introdurremo anche delle altre come si fanno a scegliere basta andare a vedere abbiamo detto che il nostro corpo presenta queste antennine che sono delle rice trasmittenti dei segnali luminosi di elettromagnetici in generale quindi quello che si sintonizza meglio con queste antennine che vengono chiamate i cromofori che sono nelle biomolecole quindi a seconda delle frequenze che assorbono meglio noi andiamo a scegliere quella che appunto andiamo a dare con il nostro dispositivo ok perfetto esiste una sorta di catalogazione cioè per chi dice ok voglio usarla per questo motivo perché poi una al momento c'è un ti dico visto dall'esterno io ho fatto anni fa facevo lo stesso identica fatica non essendo diventata ancora mainstream come informazione ci sono un po' di siti molto specializzati e ancora non c'è stato quel che poi purtroppo porta anche alla fase successiva che è la confusione ma non c'è stata una vera e propria fase di traduzione cioè non c'è ancora il sito internet per non appassionati che ti dice in quattro parole 6,60 serve a questo 800 serve a questo e invece è importante perché in realtà le varie lunghezze d'onda cioè se le prendiamo per la pelle deve avere un senso se le prendessimo per i mitocondri per la longevità deve averne un altro cioè riesce a darci dei range di riferimento sì allora il problema diciamo della fotobiomodulazione è questo che è una giungla la letteratura scientifica l'unica cosa che è riuscita a dimostrare con gli oltre 10-15 mila studi è che è efficace per una pletora sia di problemi di salute ma anche come stimolazione della performance ma d'altra parte è talmente eterogenea perché uno usa una frequenza piuttosto che un'altra un gazzatonda piuttosto che un'altra uno una frequenza di pulsazione piuttosto che un'altra uno è il led uno è il laser uno quindi i parametri sono talmente eterogenei gli studi talmente eterogenei che anche gli esperti del settore fanno fatica a trovarci un razionale quindi diciamo che c'è confusione tra il non esperto ma tra gli esperti c'è ancora più confusione è ancora peggio è ancora peggio e poi dici funziona ma allora voglio trovare il meccanismo per cui funziona allora qual è la miglior lunghezza d'onda qual è hanno fatto anche review cose varie ma alla fine una diciamo un manu a un va de me cum al 100% affidabile non c'è ancora diciamo che in linea di massima come dicevamo prima la luce rossa sta più in superficie quindi va a stimolare diciamo più la sintesi di collagene tutto quello che è relativo alla pelle che poi ha un effetto sistemico sull'organismo se noi vogliamo andare però più in profondità è meglio andare almeno col vicino infrarosso quindi 810 830 850 nanometri si è visto ad esempio che l'810 stimola molto i mitocondri adesso c'è anche il 1064 che va ancora più in profondità nei tessuti comunque in generale già uno che ha 670 rossa 830 850 nanometri vicino infrarosso fa entrambi i lavori infatti noi abbiamo deciso di tenerli sempre tutti che lavorano insieme infatti stavigendo molti prodotti sanno entrambe le cose esatto perché si ha una sinergia in più anche se c'è qualche meccanismo che è sfuggito noi andiamo a prenderlo perché andiamo a lavorare un po' su tutte le variabili quindi secondo me non ha neanche poi tanto senso andare a separarle uso una allora teniamo acceso sempre tutte così si va a fare stimolazione contemporanea su vari livelli su vari cromofori e molecole accettori della luce e quindi andiamo a lavorare su tutto contemporaneamente ok perfetto quindi al momento è più un discorso oddio mi è venuta sul momento ma si può dire di più e meglio o no sì allora diciamo di più intendo come più frequenze possibile copri meglio è sì esatto quelle che si sono rivelate più biologicamente attive sicuramente lavorando in sinergia anche perché se noi andiamo a vedere il sole ha uno spettro completo enorme quindi se noi andiamo a riuscire a catturare quelle più biologicamente attive riusciamo a dare uno stimolo importante detto questo comunque già quando uno ne ha tre già una del rosso e due del vicino infrarosso comunque sta già facendo un lavoro un lavoro completo ecco poi tra l'altro mi sembra che anche tu ti stia beneficiando di queste tecnologie credo sì sì io in realtà ne sono l'avevo detto in un'altra intervista che tra l'altro mi è stata fatta è stato il singolo fattore che poi è il motivo per cui io ho avuto un percorso inverso non mi definisco minimamente un esperto soprattutto o meglio del lato tecnico cioè il lato vostro più ingegneristico ho letto tanto riguardo l'interazione con le patologie e lo stile di vita però è stato un percorso inverso non ho studiato prima e poi ho preso la lampada in realtà io ero nella comunità del biohacking c'è un periodo anni fa in cui se ne parlava molto e quando ho cominciato ad avere come singolo fattore l'utilizzo di questo tipo di terapia appunto le luci la fototerapia è stato il singolo fattore che ha cambiato di più la giornata cioè poi io sono fissato misuro tutto la qualità del sonno la qualità degli allenamenti lo stress e sono dei cambiamenti marcati cioè è marcato il fatto che tu utilizzi la lampada da quando non la utilizzi quindi per me è stato un motivo proprio di approfondimento quasi ossessivo poi in seguito ovviamente anche tu ne farai uso giornaliero no? Assolutamente anzi diciamo che poi diventa una tra virgolette una droga ma non perché dia suefazione ma perché ti fa stare talmente bene che uno riesce più a farne meno infatti noi abbiamo tanti nostri clienti che hanno le lampade grosse si prendono anche quelle piccole perché quando vado in ferie non ci rinuncio me la metto in valigia e mi prendo la lampada piccolina proprio perché la sensazione di benessere poi è in primis quello che va che fa la differenza perché poi uno può dire ah c'è lo studio sicuramente lo studio c'è gli studi ci sono io sono il primo che voglio andare a vedere gli studi ma d'altro canto poi va provata in prima persona e dire che effetto hai avuto mi sento più energico ho più lucidità mentale aumenta la prestazione fisica avevo questa infiammazione mi è passata quindi sono questi tu questo ti interrompo scusami Ale però effettivamente c'è anche l'altro lato della medaglia che comunque sono dispositivi costosi quindi io mi metto cioè mi è capitato di consigliarli magari per dei mal di schiena o per del per esempio una cosa per cui non l'ho preso la lampada era il discorso della pelle io ho avuto dei lievi non avevo un'acne molto forte ma i classici brufoletti che le possono capitare io non ce l'ho mai più avuti non l'avevo presa per quello però mi è capitato ecco di consigliarla ed è chiaro che da lì a dire lo prendo per provarlo non credo che sia un dispositivo che ti possa che la maggior parte delle persone si possa permettere di provarlo quindi effettivamente se c'è una richiesta scientifica dietro oltre al classico questa parola fa tanto la differenza ed effettivamente di letteratura ce n'è tantissima in una marea di settori completamente diversi tra loro tra l'altro ma un'ultima domanda prima di buttarci poi su questo argomento secondo te cioè perché evoluzionisticamente siamo cioè perché la luce fa così tanto perché poi in realtà adesso luce rossa e luce blu che in realtà è stata vista come il male per un sacco di tempo ma la luce blu potrebbe anche essere a me per esempio la luce blu ha aiutato tantissimo a regolare un problema di insonnia no? Assolutamente con la giusta esposizione ci sarà tra un po' si parlerà sempre più di luce verde di luce gialla di luce viola perché secondo te il nostro corpo è così cioè percepisce così tanto la luce? Sì allora a me piace iniziare anche i corsi con una famosa frase di Tesla che dice siamo esseri di luce no? ma non è una cosa esoterica esotica in realtà perché la biologia la biochimica parte dalle molecole e dalle reazioni che vengono fatte nel nostro corpo ma se uno ragiona in maniera più profonda come è possibile avere tutte queste miliardi di reazioni e secondo che siano sincronizzate perfettamente è quello che ci distingue dalla materia inorganica dalla materia inanimata un essere vivente ha un alto grado di organizzazione e sincronizzazione e la risposta infatti sta in questa frase ossia la luce ossia il campo elettromagnetico perché la luce non è nient'altro che una porzione dello spettro elettromagnetico quindi le nostre molecole le molecole che compone il nostro corpo utilizzano questa discriminante frequenziale che hanno imparato durante il corso dell'evoluzione chiaramente a sfruttare quello che c'era nell'ambiente cosa c'era prima di tutto la luce solare in secondo luogo anche altri campi elettromagnetici ambientali come la famosa risonanza Schumann e altre quindi hanno imparato utilizzare la luce per avere energia ma anche per avere informazioni perché ad esempio la luce blu dice al mio corpo ehi svegliati è ora di muoversi mi fa produrre cortisole quindi mi tiene sveglio durante la giornata quindi non c'è mai una cosa che è o bianco o nero bene o male buono o cattivo come noi per diciamo nostra natura tendiamo a iper semplificare ma in realtà è una questione di bilanciamento delle varie variabili quindi la luce blu non è il nemico ma ad esempio l'eccesso di luce blu non bilanciato dagli altri spettri tipici degli schermi degli smartphone pc o anche dell'illuminazione a led esempio quindi tutti non solo noi tutti gli organismi viventi anche le piante hanno imparato a sfruttare queste radiazioni benefiche ambientali ed è per questo che poi si rivelano così biologicamente attive si rivelano tra virgolette anche sorprendenti e la loro mancanza quindi la mancanza di sole e la mancanza di luce è uno dei più potenti interferenti nella nostra salute non solo a livello endocrino ossia di regolazione ormonale ma anche poi sistemico in generale penso che io quando mi è stato perché poi parlo da amici non avendo non avendo appunto rapporti commerciali con aziende non è che mi metto a venderle in generale però quando mi viene consigliato avendoci avuto sempre negli anni i benefici mi capita di dire guarda io questo te lo consiglio eppure una risposta che viene spesso data è proprio ma vabbè ma com'è possibile che adesso questa singola cosa ti abbia cambiato così tanto la vita eppure in realtà mi capita spesso di risalire a delle cose delle nozioni che magari ricordo dal liceo quando ti dicevano che la rivoluzione industriale l'utilizzo delle lampade quando non era più le lampade al al neon scusami no led è stata una dei fattori che abbiano che hanno più alterato i nostri ritmi circadiani il fatto che adesso la singola esposizione allo smartphone o agli schermi come singolo non stiamo parlando del classico eh vabbè ma è un insieme di cose no la singola esposizione a una luce di un certo tipo appunto la sera è il singolo fattore che ti incasina il sonno quindi sì noi siamo in realtà siamo sempre stati proni a farci a comprendere o a subire le influenze della luce quanto sono forti le influenze della luce e adesso facciamo magari un po' fatica a pensare a quanto possa essere terapeutica però in realtà è un è un singolo fattore che noi siamo basati sul ritmo sonno veglia tutto il nostro ritmo circadiano è basato sull'alternanza sole e notte quindi effettivamente come dicevi tu cioè la luce è un qualcosa di estremamente importante per cui il nostro corpo è molto ricettivo nel tuo peregrinare scientifico ti sei imbattuto anche in interazioni o in studi che ne parlavano in relazione a qualche patologia o qualche condizione particolare assolutamente guarda c'è una pletola di studi beh in primis sulla fototerapia cioè l'utilizzo delle lunghezze d'onde relative all'ultravioletto ci sono decenni e decenni di letteratura scientifica per le problematiche cutanee per ad esempio iperbilirubinemia io quando sono nato avevo diciamo questo ittero e mi hanno messo sotto una lampada ovino e poi per tubercolosi altre cose in effetti la elioterapia addirittura era nota bene ai greci agli antichi greci altre culture tradizionali la fotobiomodulazione è nata prima come low level laser therapy è leggermente un po' più recente ma conta un sacco di studi oramai io sono andato a vedere poco tempo fa erano 12-13 mila ogni giorno ne escono decine decine ma noi ci sentiamo quasi in imbarazzo quando ci dicono va bene per questo per quello sembra che vogliamo fare i maghi della situazione ma perché in realtà come abbiamo detto prima va a girare a livello biofisico cioè se io sto nel mondo delle molecole esempio della chimica magari prendi questa molecola un'altra c'è sempre un feedback non sai mai cosa succede al corpo se io invece vado ad agire a livello fisico io poi vado ad agire alla base e tutto quello che viene sopra la biochimica che viene sopra è una conseguenza di questo io vado ad agire alle radici dell'organizzazione di un sistema vivente e quindi per questo che va bene un po' per tutto per questo che ha un'azione antinfiammatoria naturale noi sappiamo che infiammazione sistemica soprattutto cronica di basso grado è quella che accompagna tutte le malattie da artriti artrosi problematiche dolori muscolari articolari osse ma anche neurodegenerazione quindi alzheimer parkinson tutte le malattie degenerative che hanno che sono accompagnate da una disfunzione mitocondriale guarda caso hanno come denominatore comune l'infiammazione sistemica che non è diciamo lo dico non è colpa il corpo genera un'infiammazione perché c'è qualcosa perché per un meccanismo di feedback è una reazione ok noi se noi andiamo alle basi ad agire quindi sulla sulla rigenerazione dei tessuti sulla produzione di energia sulla salute dei mitocondri il nostro corpo dice sai che c'è l'infiammazione non mi serve più la spegniamo e quindi la manda in risoluzione di per sé quindi noi andiamo a dare un segnale al corpo il corpo poi pensa lui tra virgolette a guarire ok non ha bisogno invece di una molecola che va a spegnere l'infiammazione ma non è vero che la spegne spegne la tempesta citochinica spegne dei meccanismi di segnalazione è la stessa cosa come se io mi si accende la spia del motore della macchina invece di cambiare il motore vado a spegne vado a togliere il fusibile della spia che bello non si accende più la spia ma dopo mille chilometri fondo se invece io vado a cambiare il motore l'olio del motore quello che noi vogliamo andare a fare la nostra macchina andrà avanti per un bel po' chiaro chiaro assolutamente poi ti dico per me è anche so che anche dal lato vostro possa sembrare così tanto strano ma è chiaro che non è che si parla di fai questo o utilizza questo e guarisci assolutamente non stiamo parlando di questo però è uno di quei fattori che in un sistema biologico complesso c'è una gerarchia di influenze quindi magari prendere il coenzima Q10 è una cosa perché è sottoposto a un certo tipo di feedback più recepito in alcuni organelli rispetto ad altri alterare il ritmo del sonno è uno stimolo molto più grande a livello gerarchico perché cambia tutto a cascata cambia tutta un'altra serie di reazioni la luce è allo stesso livello cioè non mi non mi stupisce il fatto che si trovino evidenze su tutto perché è un la luce è un fattore a cui noi siamo esposti quotidianamente a cui siamo antropologicamente stati sempre esposti quindi è è anche giusto è anche normale che influenzi i reali mi aspetto magari che influenzerà la qualità del sonno che influenzerà la qualità del risveglio che influenzerà probabilmente il centro della fame probabilmente il livello di regolazione immunitaria è ovvio che sono tutte cose che vanno dimostrate perché poi magari una cosa la influenza al 5% al 2% e non è rilevante un'altra la influenza al 30% ed è molto rilevante però è un fattore genetico a cui scusatemi epigenetico quindi a cui siamo sempre stati esposti nell'arco generazionale e ogni volta che è cambiato qualcosa sul nostro livello di esposizione alla luce di un certo tipo c'è sempre stata una ripercussione ma poi non è un caso giusto io penso ci vedo anche quel collegamento con la scandinavia col fatto che comunque la poca esposizione al sole per lunghi periodi generi un certo tipo di umore o alcuni tipi di fenomeni che sono più comuni in quelle zone giusto cioè alla fine è sempre un discorso di esposizione alla luce assolutamente beh chiaramente tu avendo esperienza nel settore un certo tipo di sensibilità di conoscenza e anche di vai a misurare come dicevi i parametri puoi farti un'idea diretta però diciamo che tutti possono fare esperienza di come si sentono in estate con il sole eccetera eccetera o poi in inverno e soprattutto nei paesi nordici ma infatti c'è un alto livello un tasso di suicidi incredibile nelle popolazioni nordiche soprattutto in inverno e infatti noi abbiamo clienti in Svezia e in Norvegia che hanno comprato i dispositivi e posto per andare a ovviare a questa mancanza intrinseca di luce mi viene in mente il film di Checco Zelone quando andava a fare in Norvegia che fino a fatto l'impiegata di ieri rimase suicidata e c'ero scherzando però in realtà purtroppo un po' macabro però è un po' macabro però mette in luce il fatto che c'è un tasso di depressione e purtroppo di suicidi incredibile dovuti proprio alla mancanza di luce insomma soprattutto noi italiani che anche siamo abituati ad avere un pochino più di luce quando andiamo a stare all'estero io ho degli amici che abitano in Olanda in Inghilterra mi hanno detto guarda la depressione soprattutto d'inverno che è incredibile certo non è semplice da colmare proprio perché è un fattore così tanto impattante nella quotidianità non è poi ti dico dall'altro lato non è un caso come in molti circoli che vadano dal biohacking ma la crescita personale il self help in generale una delle pratiche più consigliate per il benessere giornaliero è ti svegli ti esponi alla luce è la cosa più consigliata due in realtà quella e il grounding cioè stare a piedi nudi sull'erba se possibile però è proprio un giusto risveglio e questo può ecco questa è una domanda che può essere un po' non vuole essere provocatoria è solo curiosità quanto una lampada che si che copra anche lo spettro dell'UV può realmente mimare l'effetto dell'esposizione al sole scientificamente e magari per tua esperienza ma sicuramente quelle più biologicamente attive sono la luce rossa in frossa perché perché ci accompagnano tutto il giorno dall'alba al tramonto e l'UV è importante perché perché scientificamente mi va a stimolare la produzione della famosa vitamina D che poi in realtà è un ormone fondamentale mi va a stimolare tutta una serie di molecole di azione ormonale con tutta una serie di ormoni soprattutto gli ormoni steroidei chiaramente che sono quelli derivati dal colesterolo che guarda caso sta nella nostra pelle ok quando l'UVB colpisce il colesterolo nella nostra pelle mi aiuta a produrre tutta questa serie di ormoni produce endorfine produce neurotrasmettitori mi aiuta quindi produce ossido nitrico soprattutto l'UVA quindi chiaramente ha un effetto veramente importante diciamo che sono quelle veramente biologicamente attive detto questo anche poi sicuramente con la luce blu perché io un bel cielo azzurro di una bella giornata di sole mi va a stimolare il cortisolo che non è un nemico assoluto ma ci serve per stare svegli è lo sbilanciamento l'eccesso la distruzione circadiana del cortisolo quindi dei ritmi cortisolo melatonina che creano problema però una bella giornata di sole mi va a dare una bella diciamo botta di energia quindi sia lo spettore visibile che l'UV che la luce rossa infrarossa sono tutte importanti chiaramente per esercitare certi livelli certi feedback certi meccanismi la luce rossa infrarossa si è rivelata molto utile in base alla folta di letteratura scientifica ma anche l'ultravioletto per questi meccanismi antinfiammatori e di modulazione tra virgolette immunitaria derivanti sia dipendenti che indipendenti dalla produzione di vitamina D perché il sole non è solo vitamina D l'UVB non è solo vitamina D ma si generano decine e decine di metaboliti che sono tutti biologicamente attivi ecco il corpo non butta via niente da questo punto di vista come ti dicevo la sensazione di esporsi al sole e al cielo quando è anche sicuramente una questione psicologica perché è anche bello cioè diciamolo diciamolo è proprio bello la sensazione di stare all'aria aperta quando c'è il sole se sei una persona che ama anche leggermente il freddo anche in inverno è una bella sferzata di energia stare utilizzare una lampada in questo senso per te probabilmente avrà lo stesso o più o meno lo stesso politico scientifica però probabilmente mancherà il lato psicologico giusto? ma esatto allora noi non vogliamo prendere in giro le persone diciamo non potete prescindere dall'esposizione al sole non prendete le lampade per come scusa per non esporvi al sole queste sono un aiuto sono un adiuvante però prima cosa sole contatto con la natura poi queste sono un di più un boost però noi teniamo a precisarlo perché non vogliamo prendere in giro le persone innanzitutto poi vogliamo anche sottolineiamo che non pensate di comprare la lampada che è la pillola miracolosa cioè voi dovete mettere a posto alimentazione stile di vita connessione con la natura e tutto il resto per avere mettere a posto ogni tassello del puzzle perché se uno sta sul divano tutto il giorno mangia schifezze non può pretendere di fare la lampada e di avere tutta questa salute e sistemo tutto perché sennò poi andiamo sempre nel nel solito nel solito diciamo le solite marketate di mainstream di pubblicitarie e robe varie sì questo penso che sia assolutamente un messaggio sano perché tra l'altro è un fattore come dicevamo prima è un fattore che influenza tutto ma proprio come ce ne sono altri se dormo male perché vado a voglia a parlare della lampada che mi aggiusta o mi aiuta a regolare i ritmi circadiani se poi sto a guardare serie tv fino alle 2 di notte o all'una di notte o mangio in orari completamente non consoni per il mio corpo cioè non c'è non è possibile avere uno stimolo che è così tanto più forte di tutti gli altri perché altrimenti sarebbe un sarebbe anche un problema a livello biologico effettivamente quindi detto ciò io ho una una domanda conclusiva a cui puoi scherzosamente dire rispondere anche con i nostri ma come si riconosce un prodotto sensato perché per la mia conoscenza sensato intendo un prodotto di qualità tra le lampade perché uno dei parametri che conosco io è ad esempio l'emissione di EMF che sono delle anzi questo lo faccio spiegare a te perché sei più bravo però so che esistono delle certificazioni che ti dicono EMF free quindi non hai l'emissione di campi elettromagnetici che poi sono molto molto tossici in generale quello è uno dei parametri quali sono gli altri che possiamo guardare insomma? sì allora prima di tutto dicevamo prima lunghezze d'onda quali sono più biologicamente attive perché uno dice vabbè ad esempio uso 6,60 6,50 6,70 un profano dice vabbè 10,20 avanti e indietro non farà tante in realtà se guardiamo la curva di assorbimento sono tante del nostro corpo sono tante ma sono strette e quindi chiaramente magari anche 10 nanometri di lunghezza d'onda può fare 30-40% di assorbimento più o meno quindi insomma lunghezze d'onda importanti in secondo luogo è importante l'irradianza ok perché uno dice la mia lampada 1000 valli la mia 2000 la mia 3000 sembra quasi ma qual è l'assorbimento della lampada quello che conta è la più alto in questo senso esatto esatto in realtà è quello che viene dissipato dalla lampada come se fosse il frigorifero la lavatrice ma quello che conta è la potenza luminosa che arriva sulla mia pelle e quindi l'irradianza perché più alta l'irradianza più è alta la penetrazione maggiore la penetrazione nei tessuti e quindi ho una risposta biologica migliore e minore sarà il tempo di esposizione quindi uno deve chiedere anche l'irradianza e poi le tecnologie dei led purtroppo mi rendo conto che non ha detto il lavoro è difficile di stricarsi noi esempio abbiamo scegliamo la tecnologia sia un misto led periferici piccolini tutti quelli che uno vede all'esterno e il cipon board che cos'è quei mega bulbi perché questi danno veramente una bella radianza puntuale e guarda caso dove vanno puntati nelle parti del corpo corrispondenti a una maggiore densità mitocondriale quindi cuore cervello tutti gli organi principali quindi diciamo che per scegliere la tecnologia i parametri sono lunghezza d'onda irradianza se ha la luce pulsata o meno perché questa poi è anche un altro parametro importante che la luce pulsata noi abbiamo visto anche in itinere che i benefici vanno al di là delle sono andati al di là delle nostre più rose aspettative ecco scusami per fare un attimo una pausa perché questo per me è arabo tu lo riesci a spiegare perché ho letto anche un paio di studi molto belli dove la luce pulsata a 40 hertz aveva un ottimo effetto sul rallentamento della progressione dei sintomi dell'Alzheimer come cacchio è possibile spiegato a un biologo non a un ingegnere che la luce pulsata cambi così tanto rispetto alla luce fissa sì allora perché innanzitutto la luce fissa nel senso che la lampada sta sempre accesa lui si è pulsato e si accende e si spegne come ha l'altro di Natale perché molti si fanno queste domande quindi già preveniamo quindi a seconda della frequenza di pulsazione più aumenta la frequenza di pulsazione e più si accende e si spegne velocemente perché è importante perché innanzitutto scalda meno il tessuto e quindi si ha meno l'effetto termico e di più l'effetto di attivazione mitocondriale in secondo luogo va molto più in profondità nei tessuti quindi ad esempio per penetrare a scatola cranica per trattare uno che è affetto da patologie neurodegenerative mi va più in profondità e quindi vado ad agire meglio si sincronizzano con le varie onde cerebrali quindi vado a dare uno stimolo sì o calmante rilassante di meditativo con le frequenze basse o una bella botta di energia detto volgarmente con le frequenze più elevate quindi ad esempio una frequenza 40 o 50 vado ad utilizzarla sul cervello per andare a stimolare la rigenerazione di tessuti plasticità neuronale meccanismi di detossificazione tramite il sistema glinfatico oppure vado a dare una bella botta di energia perché mi va ad aumentare la performance cognitiva ma anche fisica ad esempio si è visto che prima di una prestazione sportiva una pulsazione a 50 Hz mi andava a incrementare la prestazione e quindi a seconda della frequenza di pulsazione io vado a dare uno stimolo biologico diverso ma soprattutto vado più ad agire in profondità nei tessuti a massimizzare l'attivazione mitocondriale e rispetto ad un effetto termico ossia volgarmente mi scalda il tessuto quindi non è come mettere una borsa dell'acqua calda ma una vera e propria attivazione profonda a livello biofisico e quindi questi diciamo che sono un po' i parametri fondamentali come la bassa emissione di inquinamento elettromagnetico come l'effetto flicker che in realtà non è da confondere con la pulsazione ma infatti come lo riconosco cioè eh sì perché l'effetto flicker è casuale cioè praticamente deriva dalla bassa qualità costruttiva dei driver quindi ho questi sbalzi luminosi però sono casuali il nostro corpo come le riconosce non lo sappiamo invece la luce pulsata ha una forma d'onda ben precisa e quindi chiaramente va ingegnerizzata per andare a stimolare una risposta biologica però questi sono parametri il flicker per esempio sono parametri di cui mi accorgo dopo cioè nel momento in cui ma in teoria sì dovrebbero dichiararlo il produttore però sai poi non sempre insomma lo dichiarano tra le varie tra le varie statistiche non mi sembra di averlo mai letto effettivamente il flicker sì qualcuno lo dichiara altri dicono si sono inventati che è addirittura benefico perché l'hanno voluto confondere con la luce pulsata non so se più o meno in buona fede però ecco teniamo a fare questa distinzione è stato molto politicamente corretto nel dire questa cosa bravo va bene io direi che abbiamo risposto a un sacco di domande e soprattutto hai fornito delle linee guida per scegliere un prodotto ma soprattutto a prescindere da prodotto o meno secondo me è un argomento estremamente interessante proprio perché come dicevo prima la luce abbiamo ricettori sparsi su tutto il corpo e abbiamo delle una sensibilità che è globale cioè l'esposizione alla luce fa bene a tutto il corpo e quindi vedremo sempre di più sarà vuoi o non vuoi sarà qualcosa che utilizzeremo sempre di più in svariate sensazioni diventerà proprio anche perché ha talmente tanti benefici ah ecco scusami prima di andare in chiusura non ti faccio parlare altri 40 minuti e perdiamo tutti gli ascoltatori ma i rischi ci sono rischi perché io non l'ho mai trovati ad ora ma ci sono rischi assolutamente la letteratura scientifica non ha evidenziato rischi ma chiaramente come tutte le cose c'è una curva utile che è molto ampia quindi la risposta dipende dall'infermazione individuale da un sacco di parametri quindi la curva diciamo utile è molto ampia se si valdi fuori di questa curva utile ossia o troppo poco o troppo chiaramente si possono andare ad annullare i benefici però diciamo che di effetti in realtà collaterali importanti non se ne sono evidenziati ecco l'importante è appunto o misurare come fai tu i vari parametri quindi la risposta o semplicemente andare a valutare i feedback che si hanno dall'esposizione per andare a vedere se mi sto esponendo correttamente ossia sono all'interno della curva che va a massimizzare i benefici oppure sono in un punto subottimale della curva di risposta e quindi magari va aggiustato qualcosa però assolutamente al momento la folta e densa letteratura scientifica non ha evidenziato effetti collaterali non ci sono state persone che vi hanno detto l'ho fatto mi sono sentito male ho vomitato o cose del genere no l'unica cosa che noi teniamo a dire alcuni dicono ah ho fatto la lampada aveva un dolore i primi giorni è peggiorato addirittura noi diciamo bene e lui come bene sì perché è andato se tu hai un'infiammazione cronica di basso livello prima bisogna reacutizzarla e poi mandarla in remissione quindi è quello che ha fatto l'ha reacutizzata brevemente poi è andata in remissione infatti ci richiamano dopo due tre giorni avevate ragione adesso l'ha scomparso e l'unica cosa è perché magari gli occhi vanno trattati con un po' più di delicatezza con gli occhiali di protezione quello potrebbe essere un altro effetto collaterale no diciamo allora la fototerapia l'UV chiaramente sì invece la fotobiomodulazione luce rossa in frossa addirittura è terapeutica per gli occhi noi stiamo collaborando anche con degli oculisti per che sia un effetto importante sulla rigenerazione per degenerazioni maculari e tutte le problematiche adesso questa curiosità nerd assolutamente sì sì chiaramente magari all'inizio quando si sta vicini uno può tenerli chiusi magari già 30-40 cm uno li tiene aperti si fa il suo trattamento e addirittura va a stimolare perché anche lì andando a riattivare i mitocondri che sono ai nostri occhi mi va addirittura a prevenire e trattare le problematiche degenerative quindi assolutamente addirittura terapeutica per gli occhi ok perfetto davvero adesso ti lascio stare grazie mille per il tuo contributo sennò staremo qui all'infinito per chi ti volesse contattare ci vuoi lasciare qualche recapito? sì scrivermi via mail alessio chiocciola evolutamente punto it semplicissimo e sono sui nostri siti evolutamente punto it elioslamp punto com trova tutti i nostri riferimenti ok perfetto grazie a te Alessio grazie a tutti per averci ascoltato fino adesso come al solito per i supporti avete il voto su spotify i commenti che ho scoperto essere estremamente utili se volete lasciarci appunto dei suggerimenti per quanto riguarda le puntate oppure la condivisione per amici o a chi pensate che possa essere che possa essere interessato per il resto per oggi è tutto e alla prossima puntata ciao a tutti ciao ciao a tutti Grazie per la visione!